un buongiorno a tutti quanti carissimi tutti e tutte e simpatizzanti e naviganti del canale un buongiorno da simonetta questo giorno è dedicato a oschum a madre oschum una orisha una dea meravigliosa meravigliosa stupenda eccezionale una mamma prodiga di ogni tipo di generosità nei confronti dei suoi fedeli dei suoi figli oschum è una divinità yoruba africana ovviamente che è amatissima e cultuata questo è anche uno dei suoi fiori tra l'altro il girasole lo mettiamo qui anche se non è un vero girasole comunque questa è mamma e oschum come vedete si presenta con i tratti di una bellissima mulatta vestita di giallo adornata di oro con il suo specchio il suo ventaglio altri attributi come la zucca come i busios cioè le conschiglie il girasole e altre cose e lei è la è la madre delle acque dolci quindi a differenza di yemanja di cui comunque si dice che sia anche figlia in molte in molte forme di culto oppure comunque una dea simile oschum è la dea della bellezza dell'amore è la dea della fortuna dell'abbondanza del lavoro del successo dell'arte è colei che porta allegria nella vita che porta anche fertilità quindi oschum sinceramente è una dea che ha tantissime energie tantissimo asce ed è in grado di intervenire nelle più svariate situazioni da quelle sentimentali e quelle materiali e quelle spirituali quindi è il fedele che chiede a madre oschum di cosa ha bisogno madre oschum nei culti ovviamente soprattutto un bandisti o santeri è sincretizzata anche con la nostra signora appare sida oppure con l'immacolata concezione e quindi in brasile o anche in altri paesi potrete vedere che oschum è rappresentata anche così comunque questo è questo preambolo è più di storia diciamo così questo lavoro che vi presenta un lavoro meraviglioso è un lavoro meraviglioso perché andiamo a chiedere veramente a oschum che ci faccia una grazia importante che ci dia un aiuto importante in qualunque campo voi desideriate quindi può essere un problema sentimentale un problema di solitudine quindi di trovare una persona giusta può essere un problema di fertilità quindi si desidera un figlio non arriva questo figlio può essere un'aspirazione che avete quindi un'aspirazione legittima di avere un lavoro un nuovo lavoro migliore meglio pagato oppure di migliorare quello che avete già può essere che avete bisogno di clientela può essere che avete bisogno di fama di successo perché nel vostro lavoro magari siete anche degli artisti questa è un'altra cosa che possiamo chiedere a oschum può essere che avete bisogno di armonia di pace di serenità in famiglia le richieste sono davvero tante e voi come figli rivolgetevi a lei proprio così con l'appellativo ma mai cioè madre 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 oschum aiutami in questo aiutami in quest'altro realizza per me questo desiderio risolvi questo problema il vostro problema il vostro problema o desiderio voi andate a scriverlo in un foglio normalissimo bianco quindi io tal dei tali ti chiedo o madre oschum di aiutarmi o di realizzare questa cosa e scrivete cosa scrivete proprio a lei esattamente cosa desiderate usando preferibilmente un lapis quindi fate la vostra richiesta cara madre oschum io ta io simona ti chiedo che tu possa aiutarmi oppure possa realizzare questo mio desiderio aspirazione necessità in modo dettagliato fate una specie di lettera piegate questo foglio in cinque perché il cinque il numero sacro di oschum quindi in cinque parti una due tre quattro e cinque e mettete da parte andiamo a vedere cosa ci serve d'altro cose comunque tutte sempre ben reperibili procuratevi un sacchettino e io ho trovato questo perché l'ho preso anche un po piccolino forse ma comunque procuratevi un sacchettino tipo di quelli da bomboniere che si trovano benissimo nei supermercati nei magazzini vari anche dei cinesi che ce ne hanno da buttare via prendete un sacchettino è di di stoffa di organza di quello che vi pare a voi può essere di colore naturale neutro può essere bianco addirittura meglio ancora se lo trovate giallo può essere di colore rosa azzurro trovate dei colori comunque dolci e quindi bianco quindi trovate un colore che se non è il giallo sia un colore neutro o pastellato questo per darvi un'indicazione maggiore quindi un sacchetto un sacchettino così poi cosa vi serve vi servono cinque monete dorate di qualunque valore non importa il valore decidete voi il valore che siano da 50 da 20 da 10 centesimi ma devono essere dorate perché Oshun è la signora dell'oro quindi il simbolismo è molto chiaro le lavate bene prima le asciugate e poi sono pronte ad essere usate non usate mai monete non lavate è un atto di rispetto è un atto anche di purificazione da tutte le interferenze poi vi servirà che cosa o una stecchina di cannella oppure un pochino di cannella in polvere e andiamo avanti molto semplice non vi spaventate 5 caramelle di miele al miele qualunque supermercato le ha 5 caramelle al miele come altra cosa un pochino di nastro giallo rigorosamente giallo perché il giallo il colore di Oshun quindi in una merceria in un magazzino io questo l'ho trovato a un euro e lo troverete anche voi per pochi veramente centesimi un pochino di nastro giallo una candela gialla può essere fatta a candelotto può essere fatta a stilo il colore ovviamente preferibile è il giallo perché il colore di mamma Oshun solo le persone che per motivi davvero che proprio non riescono a trovarlo o non hanno la possibilità neanche di comprare la candela gialla tutto ci può stare allora lavorate con una candela bianca quindi bianco può essere accettato comunque però se non trovate il giallo fate di tutto per soddisfare madre Oshun perché anche il nostro impegno è visto dagli dèi dagli spiriti come una cosa bellissima il nostro minimo sacrificio di comprare qualcosa di andare a interessarsi di qualcosa di cercare è visto come una benedizione del resto come ho detto e ripetuto per avere bisogna anche dare e dare non solo materialmente ma anche con il cuore che è la cosa più importante benissimo abbiamo tutto poi se qualcosa vi è sfuggito vi riguardate il video sempre se vi interessa questo lavoro qua si fa di sabato quindi si lavora di sabato l'alunazione può essere calante o crescente però nel caso voi vogliate un risultato più forte lavorate in un sabato di luna o piena o crescente è di sabato lavorate di giorno quindi dalla mattina fino a quando comunque si vede il sole non di notte questi sono i requisiti per fare questo lavoro poi decidete voi l'orario preciso l'importante è che sia ancora giorno allora come si inizia abbiamo già iniziato come abbiamo detto facendo la nostra richiesta di qualunque natura e piegando il foglietto cinque volte prendiamo le nostre caramelline al miele il miele ricordatevi che è sacro Oshum è la signora del miele quindi mamma Oshum ecco lei che è proprio la madre che addolcisce è la madre delle api è la madre del miele ecco lei che profuma di miele il miele è la dolcezza la gioia di vivere l'abbondanza è la fortuna è mille cose quindi andate a scartare le caramelline ora qui magari questa non viene non le mettete ovviamente con la carta e ne mettete cinque sempre cinque il suo numero sacro quindi abbiamo cinque caramelle al miele cinque monete lavate bene acqua sapone e un pochino di sale se potete asciugate abbiamo il nostro sacchettino abbiamo la nostra cannella e abbiamo la nostra richiesta prendiamo il sacchettino stando concentrati su ciò che abbiamo chiesto a madre Oshum con grande rispetto mettiamo dentro tutte queste offerte nel sacchetto le caramelle le monete tutto quanto la richiesta la vostra petizione la cannella la cannella se non l'avete in cioè in bastoncino mettete una spruzzata di cannella chiudete il sacchettino in modo che non si apra fate un piccolo nodo così state concentrati su Oshum mi raccomando dentro di voi siate connessi con Oshum mamma Oshum aiutami mamma Oshum esaudiscimi prendete un pezzo di nastro un po' a occhio pezzettino di nastro giallo mi raccomando non cambiate i colori o le cose che vedete nei video perché sono esattamente da fare così con questi passi né uno di più né uno di meno quindi prendete un pochino di nastro andate a fare cinque nodi dicendo grazie mamma Oshum esaudisci il mio desiderio questo e l'altro grazie mamma Oshum proteggimi illuminami esaudisci ciò che ti ho chiesto per favore aiutami realizza il mio desiderio risolvi il mio problema e fate cinque nodi uno due tre quattro e cinque quindi fate questi cinque nodi sempre in onore del suo numero cabalistico sacro se volete potete anche scorciare il nastro ma se vi piace è anche così perché è comunque anche una forma di ornamento lo lasciate tranquillamente così lo appoggiate in un piatto di lavoro prendete la candela che sia la candela appunto a stilo che sia la candela a candelotto mettete una candela la mettete qui la fermate chiaramente scaldandola e poi andate ad accendere la candela adesso io non ve la accendo chiaramente per farvi vedere comunque la dimostrazione il sacchettino rimane qui accanto in un angolo la candela rimane qui accendete la candela e chiamate mamma e oscum così ora ieie oscum 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 cinque volte fate il suo saluto ora ieie oscum potete anche dire salve madre oscum 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 e poi con il vostro cuore le vostre parole andate a conversare con oscum e andate a dire ovviamente sempre con tutto ciò che vi suggerisce il cuore madre oscum mamma oscum eh chiamatela pure mamma se volete non è quello il punto va benissimo anche chiamarla mamma mamma oscum in questo giorno di sabato io ti offro questa candela gialla ti offro questo dono questo sacchetto affinché tu possa con la tua potenza con il tuo asce asce la benedizione la forza degli dèi degli orisha affinché tu mamma oscum possa il più possibile celermente risolvere esaudire ciò che mi sta a cuore ciò che io ho scritto in questo sacchetto meditate su ciò che volete ottenere come se lo aveste già avuto e poi ringraziate nuovamente madre oscum quindi grazie madre oscum grazie madre oscum grazie madre oscum grazie madre oscum chi vuole può dire anche un ave maria per fare un esempio perché anche questo tipo di variante quindi di dire un ave maria è accettato dalla dea è accettato perché comunque c'è una fusione sincretica anche con la vergine la vergine maria chiaramente ricordatevi che oscum è uno una dea una orisha africana la vergine maria la madonna in tutte le sue manifestazioni è un'altra entità anche se i culti in brasile come in altri paesi latinoamericani sono stati spesso uniti bene una volta che voi avete fatto la vostra offerta avete acceso la candela avete fatto le vostre richieste le vostre preghiere lasciate tranquillamente andare la candela come offerta a mamma e oscum a madre oscum finché non finisce tranquillamente quindi il tempo che ci vuole poi che cosa fate una volta che tutto è finito vi rimane questo sacchetto magico dove c'è anche la vostra richiesta i vostri doni e allora cosa si fa con questo sacchetto prima possibile si va a donarlo a madre oscum dove madre oscum è colei che governa tutte le acque dolci perciò che sia un fiume un piccolo grande che sia un ruscello che sia un lago che sia uno specchio d'acqua voi fate mente locale dove c'è nel vostro paese nella vostra città un fiume un lago va benissimo una cascata magari se abitate più in montagna va benissimo anche una cascata un ruscello comunque dell'acqua dolce corrente andate lì nel primo giorno che potete e mettete in acqua questo dono ad oscum ovviamente ringraziandola salutandola e affidando le acque che sono poi il suo corpo la sua essenza questo dono ci saranno persone che per motivi geografici per motivi personali non hanno o lì vicino il fiume il lago il ruscello la cascata quello che è e quindi si trovano a dire cosa ne faccio di questo di questo dono di questo rituale allora solo in quei casi dove le persone non hanno possibilità di andare a a donare alle acque dolci di oscum il sacchettino questo sacchetto lo andate a portare nella natura quindi andate a portarlo in un parco in un bel giardino in una zona dove c'è comunque vegetazione possibilmente piante fiori trovate un albero trovate una pianta trovate comunque uno spazio verde e andate a depositarlo lì sarà ugualmente accettato se voi non potete lasciarlo ovviamente alle alle acque che scorrono le acque dolci potete anche se proprio avete ancora più difficoltà mettere mettere questo sacchettino in una pianta di casa vostra in un vaso di una pianta viva e in salute senza spine però e lo mettete lì e lo lasciate lì eh e lo lasciate lì a tempo indeterminato vi ho dato un po' tutte le varie soluzioni questo rituale è un rituale che ve lo posso garantire con tutto il cuore vi darà delle soddisfazioni grandi 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 fatelo con fede fatelo con dolcezza con amore con umiltà chiedete veramente con il cuore non chiedete cose inutili chiedete cose reali chiedete cose eh che comunque sia non siano mai negative anche questo va detto perché non è assolutamente consono ad osciun e vedrete vedrete che in un tempo breve eh quindi può essere un giro lunare può essere meno può essere anche più di un giro lunare la vostra vita va a cambiare quello che avete chiesto vi arriva non abbiate fretta perché madre osciun ascolta eh ascolta ed è estremamente generosa con i propri propri figli di cui comunque siamo tutti figli quindi è uno riscià che non dice di no è uno riscià è una dea madre estremamente buona dolce generosa di ogni tipo di benedizione abbiatene cura abbiatene cura abbiatene rispetto perché poi l'amerete tantissimo carissimi e carissime con questo video con questo rituale che spero possiate fare perché ve lo consiglio davvero caldamente per adesso io vi saluto vi ringrazio di avermi seguito fino fino a qui eh vi ringrazio per tutto ciò che è il vostro supporto sul canale eh perciò sono graditi i vostri like se vi piace il canale eh sono gradite le vostre iscrizioni se volete ricevere le notifiche ogni qual volta io propongo pubblico qualcosa e come chiusura vi dico sempre chi vuole può telefonare al numero che vede per consulenze private consultazioni eh private e anche per rituali di magia afro-brasiliana personalizzati un saluto ancora un grande e solito bacio che ve lo mando sempre spero che vi sia gradito e da simonetta per oggi è tutto ci vediamo nel prossimo video ora ye ye osshum grazie mamma osshum che c'è